La città di Macerata offrirà un nuovo servizio per il trasporto dei disabili, un servizio completamente gratuito che consentirà alle persone con difficoltà motorie o anziani soli che non riescono a spostarsi di uscire liberamente per le strade della città. Un servizio rinnovato anche grazie al fatto che nel 2012 sono stati effettuati 1200 trasporti. Tutto questo grazie ad un contratto di 4 anni stipulato dal Comune con l'azienda PMGSPA di Milano. È un progetto di mobilità che noi facciamo con una ditta privata per favorire il trasporto dei disabili a centri di urni o per partecipare ad attività come borse lavoro o ad attività anche di inserimento sociale. Questo trasporto avviene con un mezzo che viene messo a disposizione da una ditta privata. È chiaro che nel momento di scarsezza di risorse individuare anche forme alternative di finanziamento come questa in una collaborazione pubblico privata che non grava sulle casse dell'ente è la possibilità di dare un servizio in più, di darlo senza costi particolari per l'ente ed è anche una forma intelligente di collaborazione pubblico privata. L'azienda offrirà al Comune di Macerata dei mezzi attrezzati per il trasporto di 8 persone che potranno essere o 5 persone sedute più 3 in carrozzella o 8 persone normodotate. In più questi mezzi sono dotati di un sollevatore posteriore e laterale. I mezzi saranno consegnati in comodato d'uso gratuito grazie anche all'aiuto dei commercianti che vorranno supportare il progetto. Sono mezzi in pratica appositamente attrezzati per il trasporto di persone anziane che possono essere anche eventualmente disabili o ragazzi disabili o quelle persone che hanno degli svantaggi in genere anche motori non per forza su sedia a rotelle. Sono mezzi in comodato d'uso gratuito come dicevo prima quindi faranno un servizio capillare sulla città a costo zero e faranno uscire di casa queste persone in maniera autonoma. Ovviamente è quello il bello di questo progetto che in collaborazione con le attività commerciali del territorio grazie a una sponsorizzazione vengono in pratica aiutati.